Ma aspetta? Vai, vai. Cagliari Città Capitale è l'alternativa a chi sta governando a Roma e chi sta governando in Sardegna. È una coalizione nata più di un anno fa che vuole continuare con un progetto politico preciso che si chiama Agenda 2019 dopo le elezioni comunali. Si batterà per il no al referendum costituzionale e per la creazione di una grande alleanza alternativa a quello che ancora abbiamo chiamato centro-sinistra, ma PD per me significa partito di destra e a quel che rimane del centro-destra per il governo della Regione. Cagliari Città Capitale ha un programma preciso per la città, alcuni punti qualificanti, simbolici è la riduzione della Tari, della tassa dei rifiuti e l'impostazione di un programma sui rifiuti completamente diverso rispetto a quello che conosciamo. Daremo 500 case alla Cagliaritana e ai Cagliaritani in 5 anni per famiglie con bisogni e origini diverse. Cagliari Città Capitale è la coalizione della Porta Canto perché è una coalizione civica, ambientalista e indipendentista. E contemporaneamente è una coalizione che in maniera spontanea e libera ha fatto discutere decine di professionisti, di esperti. Abbiamo già oggi una compagine di governo che è meglio della giunta uscente. mettere la X, barrare, uno dei quattro simboli di Cagliari Città Capitale, che sono Cagliari Capitale, quartieri di Cagliari insieme ai prepirri, verdi e progress, significa fare un investimento sul futuro per fare in modo che a Cagliari non si debba più emigrare e non si debba immaginare, che i Cagliaritani non debbano immaginare il proprio futuro fuori da questa città.